E' martedì 16 giugno, buongiorno e bentrovati con il nostro primo appuntamento con l'informazione in regia questa mattina Marco Presutti. La politica in apertura con la turbolenza all'interno del Partito Democratico che sta mettendo in discussione la leadership del segretario Michela Fanelli. Uno strappo che parte da Isernia dove una fetta del PD contesta apertamente l'operato dei vertici del partito e lo stesso governatore Frattura, una presa di posizione che di fatto mette a repentaglio la maggioranza interna. Ascoltiamo Enzo Di Gaetano. Mentre tutto il Molise ironizza sulla foto scoop che ritrae Brasile e Frattura mentre si baciano e abbracciano, con gli sernini rivolta contro il loro sindaco che non prende le distanze da chi sta affossando la provincia di Isernia, parte proprio dal capoluogo Pentro, la fronda della corrente subrenziana del PD che rischia di mandare a casa Michela Fanelli. Le firme sotto al documento che sancisce la nascita della componente Molise Democratico sono tutte pesanti e parlano di un partito democratico che sta perdendo pezzi sempre più consistenti. Stefano Buono, l'ispiratore del documento di contestazione, membro della direzione regionale del PD e il nipote di Tonino Buono, un imprenditore che era vicinissimo proprio a Frattura e Fanelli. Ora questo documento mette tutto in discussione perché se i renziani della provincia di Isernia si dividono e le loro posizioni finiscono per coincidere con quelle di Ruta e Leva, statene certi che ne vedremo delle belle, con la poltrona della Fanelli che comincia a traballare seriamente. I dissidenti battezzano l'associazione Molise Democratico, che boccia senza mezzi termini il governatore e la segretaria Fanelli. Dopo il clamoroso abbandono della segretaria federale del basso Molise Giuliana Ferrara, ecco l'ennesima faida interna ai democratici, che complica il cammino del centrosinistra regionale. Il documento, oltre quella di Buono, porta altre firme pesanti, come quelle di Giuseppe Laurelli, Vincenzo Di Giacomo, Gio Contino Rossi e Maria Di Lauro. Ma a cosa puntano i firmatari? Evidentemente riteniamo che ci sono dei problemi nella condotta della linea del governo regionale e che ci sono delle criticità sulla sanità, sul lavoro, sulle vertenze che sono numerosissime e continuano ad essere irrisolte. Sulla questione morale che dà l'idea come nel metodo questa classe politica stia in realtà dimostrando di essere lontano dai problemi dei molisani, quindi sul rigetto della legge regionale per il dimezzamento dell'indenità. E queste posizioni, queste convinzioni, una parte del gruppo dirigente regionale del Partito Democratico le ha espresse sempre negli organi del partito per senso di responsabilità. Dopo un anno e mezzo, siccome non c'era la possibilità di svolgere anche il proprio ruolo perché ci si appiattiva troppo sulla linea del governatore Frattura, abbiamo ritenuto, facendo un grosso atto di coraggio ma anche di responsabilità, di scostarci in modo palese dalla linea del PD regionale e poter avere l'opportunità di esternare le cose che secondo noi non stanno andando bene. Il presidente della regione, commissario ad acta, elude le questioni e polemizza inutilmente. Così gli avvocati del Codacons, Pino Ruta e Massimo Romano, sulla vicenda legata alla mancata revoca del decreto 37 che assegna 60 posti letto alla Fondazione Pavone Neuromed di Salcito. Sono passati sei mesi dall'annuncio di quella revoca, neanche l'ombra hanno denunciato. Frattura spieghi le ragioni e perché ha cambiato idea. Il Codacons hanno proseguito, difende il diritto degli utenti del servizio sanitario senza guardare in faccia a nessuno, sia con azioni giudiziali che stragiudiziali. Con buona pace di chi è allergico al confronto, hanno concluso Ruta e Romano. E' sempre più incertezza sul futuro dello zuccherificio del Molise. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto un incontro urgente all'amministratore unico Enrico Cianciosi per fare il punto sulla campagna e sull'eventuale rischio fallimento anche per la SRL. Sentiamo Fabrizio Chionero. Una dichiarazione di fallimento per la vecchia società, la Sesta Astan data deserta, una campagna ancora da fare per la New Company sulla quale grava anche lo stato di insolvenza segnalato dal giudice e la procura di Larino. E' sempre più critica la situazione dello zuccherificio e i 79 dipendenti sono sempre più preoccupati. In cassa integrazione da mesi aspettano di capire quali saranno le strategie dell'azienda per mettere in piedi la micro campagna rispetto a uno scenario denso di incertezza con i curatori fallimentari che hanno completato anche l'inventario dei beni. Le RSU hanno chiesto un incontro all'amministratore unico Enrico Cianciosi ricordando di essere fermi alla riunione dello scorso 27 maggio e all'impegno da parte dell'azienda di chiamare i tecnici a metà giugno per il conto economico della campagna 2015. Noi siamo pronti a rientrare per la manutenzione, affermato Antonio Dilisio della Flai CGL. Attendiamo con ansia di essere richiamati come garantito pochi giorni fa, anche se il 21 maggio è stata emanata una sentenza molto chiara dal giudice. Non si gioca sulla pelle dei lavoratori, ha osservato il rappresentante di fabbrica. Sono otto mesi che stiamo a casa e l'orizzonte non si vede. Ho sempre detto, ha concluso Dilisio, che ognuno di noi si assume le proprie responsabilità e vogliamo capire se il rischio di fallimento anche della SRL sia reale. Intanto la scadenza del nuovo bando di vendita, il settimo, è stata fissata al prossimo 4 agosto per un importo a base d'asta ancora più basso, 11 milioni e 560 mila euro. La nuova tecnologia made in Molise per la molitura delle olive con l'ausilio di ultrasuoni, protagonista l'Assemblea nazionale dei frantoiani che si è svolta a Matera. Interesse ha suscitato il progetto Ultradop Olive Oil, cofinanziato dal Piano di Sviluppo Rurale e sperimentato da un gruppo di aziende molisane in collaborazione con l'Università di Bari, che punta a modernizzare l'attuale sistema dei frantoi e a migliorare l'extravergine di oliva nel rispetto della genuinità e dell'ambiente. Bene, questa era la nostra ultima notizia, passiamo adesso alla rassegna stampa. Partiamo come di consueto con il giornale del Molise.it, che punta questa mattina sulla vicenda sulla fronda interna al Partito Democratico. Parte dai Sernia la fronda che spacca il PD. Intanto è polemica per la foto equivoca di Brasiello, che amoreggia con frattura il pezzo di apertura e questa mattina a firma di Enzo Di Gaetano. Vediamo le notizie in evidenza adesso. Il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, è il nuovo presidente del COSIB. Zuccherificio, le RSU chiedono un incontro urgente all'amministratore Cianciosi. Il Codacon s'attacca, frattura e allergico al confronto. Campobasso, la SEAC riattiva le tessere bianche fino al 15 luglio. Scuola, settore infermento, intanto si avvicinano gli esami di maturità. Larino, sospesi fino al 31 agosto, i ricoveri al reparto di chirurgia generale, monta la protesta. Furdo al Cardarelli, magro il bottino, i ladri vanno via. A mani vuote, a sorpresa, riapre il viadotto Callora di Boiano, il traffico nuovamente regolare sulla statale 17. Scorriamo poi e andiamo alla rubrica editoriali, idee e opinione, dove c'è questa mattina un pezzo dell'opinionista Claudio De Luca, la disarmante comicità dei graffitari molisani. Questo il titolo del pezzo. Andiamo adesso a vedere la rubrica Omnibus che questa mattina ospita la satira di Carmine Criacci. Assurdità, questo il titolo del pezzo. Andiamo adesso a vedere il resto della stampa locale e cominciamo con primo piano Molise. Spopolamento, l'inesorabile lenta agonia del Molise, questa l'apertura. I numeri parlano chiaro, nel 2014 residenti calano di 1.377 unità, saldo negativo fra nascite e decessi aumentano gli stranieri. Sempre in prima pagina da Termoli, sbrocca eletto al vertice del Cosib, decisivo l'asse Camilleri, Bucci e Antonacci. Andiamo invece in taglio alto. C'è un box che richiama l'intervista interna ad Aldo Patriciello. Sanità, Patriciello scrive a frattura. Campobasso, Piazza Pepe salta l'incontro con i commercianti dai Sernia, Cantonieri, la palla passa alla regione. Torniamo a centro pagina e si parla del viadotto Callora, scadenza rispettata, riaperta la statale 17 all'altezza del Callora. Vediamo poi di spalla, fuggiti dal Varesotto una settimana fa, ritrovati a Termoli. Lui ha 19 anni, lei 16. Il caso a chi l'ha visto. Da Campobasso, furto notturno all'ospedale Cartarelli, magro il bottino. Tra Pietracatelle e Sant'Elia, una voragine sulla strada provinciale 212, automobilisti in pericolo. Notizia dall'Abruzzo, da vasto uffici dell'Inps a rischio chiusura, l'opposizione fa le barricate. Vediamo adesso le notizie sportive. Lupi, missione romana di Minadeo per gli under. Isernia in campo il club. Eccellenza, il sesto riparte da Cecchino ed è alla ricerca di un attaccante. E questo era primo piano Molise. Andiamo invece alla prima pagina del quotidiano che punta sulla questione sanità. Chirurgia al vietri, ricoveri vietati. Lasrem stop fino a settembre. Notarangelo si lede il diritto alla salute. Giorni decisivi per la sanità molisana. In quarta commissione è in discussione la riorganizzazione del comparto. Vediamo poi i box in taglio alto. Trasporto pubblico a Campobasso. Marce indietro della SEAC. Gli invalidi viaggiano gratis. Sempre da Campobasso. Movida sicura con la polizia municipale. Dopo 12 mesi il viadotto Callora ha riaperto al traffico. Torniamo a centro pagina. Da Isernia, vertenza Cantonieri. La delibera c'è. Ora tocca al Cipe. Sempre da Isernia. Caos, rifiuti, tolleranza zero del comune. Pronti a multare. Il box in prima pagina che poi richiama la vicenda politica all'interno del PD. A Isernia il PD si spacca. Lasciano in cinque. In taglio basso ex Energonat comitati allarmati ma frattura. Spegne le polemiche. Confermato il no all'impianto di Pozzilli. Notizie sportive serie D. Stefano Vavolo confermato preparatore dei portieri. Rosso blu agnonese. Il presidente Melloni. Stasera faremo il punto della situazione. Giovanili. Da Delfino Pescara si aggiudica il torneo Nuove Speranze. E dal quotidiano del Molise passiamo alla Gazzetta del Molise che propone come di consueto un fotomontaggio in apertura con questo titolo. Avete fallito. Vi sta franando la terra sotto i piedi. Andate a casa. Nel PD cresce la fronda e si vedono il presidente della regione Paolo Frattura e il segretario del PD Michela Fanelli. L'Oscar del giorno questa mattina va a Francesca Muccio e il Tapiro invece a Demma De Capua. Vediamo adesso futuro Molise. In taglio alto da Isernia Dem contro Dem. Parte dalla città Pentra l'aggregazione anti Fanelli Frattura. Arrisco il ruolo del segretario regionale che perde illustri sostenitori. Andiamo poi a centropagina. Per l'attualità Isernia Autovelox sulla statale 85 Venafrana. Botta e risposta sulla legittimità dell'installazione tra il sindaco di Macchia di Isernia e la Fiadel. Per la politica invece vediamo una foto dell'assessore Massimiliano Scarabeo con questo titolo pronto consumatore chiama e sarai tutelato. A breve sarà finanziato il progetto di collaborazione tra associazioni e regione Molise. Passiamo ora alla stampa nazionale che questa mattina ha delle aperture pressoché identiche che puntano sulla batosta elettorale rimediata dal PD e sulla questione migranti. Apriamo con il Corriere della Sera. Doppia apertura. PD battuto in Sicilia. Avanzano i 5 Stelle. Renzi adesso basta con le mediazioni. Il movimento di Grillo conquista Gela. A Enna sconfitto. Crisa Fulli. A centropagina invece vediamo il titolo che richiama la questione. Migranti. Migranti. L'Ite. Italia. Francia. Il Premier risponde a Parigi. Bruxelles. Verifiche su eventuali violazioni di Schengen. Ci aiutino o facciamo da soli di Cerenzi. Permessi di tre mesi per varcare le frontiere. A centropagina una fotonotizia. Vediamo Papa Francesco. L'enciclica. Laudato sì in difesa della terra e dei poveri. Francesco chiede a tutti la conversione ecologica. E dal Corriere della Sera passiamo alla prima di Repubblica. Anche la Sicilia punisce il PD e Grillo. Vince 5 ballottaggi su 5. Questa l'apertura. Su 17 capoluoghi. 8 alla destra. 7 ai dem. E 2 alle liste civiche. Crisa Fulli. Battuto a Enna. Ceduta. Gela. Anche qui a centropagina una fotonotizia di Papa Francesco. Il Papa Verde. Salvate il pianeta. Dall'uomo. La bozza dell'enciclica in arrivo giovedì. Un manifesto ecologista. E da Repubblica andiamo al quotidiano di Torino. La stampa. Col Renzi 2 non si vince. Devo tornare il Renzi 1. E basta. Primaria nel PD. Colloquio con il Premier dopo gli ultimi insuccessi elettorali. Il mio errore dice Renzi. Non ho messo i miei nel partito. Anche qui fotonotizia che riguarda la questione migranti. Migranti. Muro di Parigi. L'Italia. Faremo da soli. E dalla stampa passiamo alla prima pagina dell'avvenire. Il quotidiano della CEI. Altro che invasione. Se ne vanno in tanti. Scontro con la Francia. Renzi no a prove di forza. Guerra di parole e frontiere sui profughi. Mentre l'Istat certifica. I migranti salvano un'Italia con pochi figli e chiusa a i giovani. Pure stranieri. A centro pagina le due notizie che riguardano una il Papa. L'altra il PD. Francesco insiste. La vita vale meno di armi e petrolio. Questa è la domanda che si fa il Papa. Il Vicino Oriente è prigioniero dei traffici. La notizia invece che riguarda la politica. PD sotto shock. I 5 stelle. I 5 stelle pronti per il governo. E vediamo adesso l'apertura che fa il quotidiano. Capitolino. Il tempo. Buongiorno. Oggi pagate i moettasi. Il paese è sull'orlo del baratro. Rubano tutti. Siamo invasi dagli immigrati. E per milioni di italiani arriva la mazzata sulla casa. più 130% per negozi e artigiani. A centro pagina invece vediamo una foto notizia di Carlo Verdone intervistato dal tempo. Dice mai vista Roma così degradata. Andiamo al fatto quotidiano. Tutti contro Renzi. Questa l'apertura. PD. Il partito del Premier affonda a Venezia, Arezzo, Nuoro, Matera e nei comuni siciliani. E ammette per la prima volta la sconfitta. 5 stelle vincono nelle 5 città dove erano in Lizza. Tra cui Gela, Augusta e Porto Torres. Destre, Forza Italia, Lega e Company. Prima in Laguna e in altri 6 capoluoghi. Da Rovigo a Chieti a Enna. Questa era l'apertura del fatto quotidiano. Andiamo a vedere invece come aprono i quotidiani di area centrodestra. Il giornale di Milano scatta il piano B. Renzi a casa. Si parla chiaramente del voto degli italiani. Da Venezia alla Sicilia è una disfatta per i democratici. Berlusconi il vento è cambiato. Poi l'altra apertura del giornale su Mafia Capitale. Marino sapeva ma ha continuato a pagare. Andiamo invece adesso a Libero che fa il verso ad una battuta famosissima di Matteo Renzi su Enrico Letta. Renzi sta serenissimo. Questa l'apertura. Matteo accusa la sinistra PD ma la sconfitta è solo sua e ha un nuovo terrore. I grillini votano a destra. Berlusconi esulta. L'usato sicuro meglio del rottamatore improvvisato. Salvini trionfa le mie condizioni. Che Batosta perde 12 capoluoghi tra cui le Roccaforti, Venezia e Arezzo. E si vede la vignetta di Benni Correnzi che sta in difficoltà nelle acque della laguna. E da Libero andiamo a vedere il secolo d'Italia. E adesso il centrodestra unito può tornare a vincere e a governare l'Italia. Il pezzo a firma del re di vivo Italo Bocchino. E dal secolo passiamo al mattino di Napoli. Doppia apertura. Migranti Europa allo sbando. Schiaffo francese all'Italia. Un problema vostro. L'ira di Renzi faremo da soli. Si accende lo scontro. L'Unione Europea valuteremo se Parigi ha violato Schengen. Ma sulle quote sono accordi bilaterali. L'altra apertura. Padoan. Ridurremo le tasse. Task Force per il Sud. E dal mattino passiamo all'informazione sportiva con la Gazzetta dello Sport che decide questa mattina di aprire sul Milan. Milan attacco totale. Comincia l'era Miailovic. Il nuovo tecnico oggi a Milanello mentre si lavora per affiancare Ibra e Luiz Adriano a Jackson Martinez. Bene con l'informazione sportiva si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il telegiornale di Telemolise. A voi tutti l'augurio di una serena giornata.